Esatto, hai visto bene, sono delle mani d'oro e mi rivolgo proprio a te che non sei riuscito ad ottenere risultati con il trading online. Analisi tecnica, testa e spalle, ore e ore passate davanti ai grafici senza ottenere dei risultati oppure ottenerli ma in una maniera non sostenibile e profittevole nel medio e lungo termine. Ho deciso di dire basta ed è per questo che sto organizzando e ho deciso di organizzare in data giovedì 17 marzo alle ore 21 un evento in diretta nazionale che prende il nome del Burattinaio con le mani d'oro. Un evento al 100% gratuito in diretta su Zoom al quale potrai iscriverti cliccando qui sul link in descrizione oppure andando su ilburattinaio con le mani d'oro.com e all'interno di questo evento rivelerò le regole meccaniche e statisticamente vincenti che utilizzo in prima persona per generare profitto in modo costante attraverso i mercati finanziari. Cosa molto importante senza nessun tipo di analisi e dedicandoci meno di 30 minuti al giorno. Quindi clicca qui sotto, ti troverai in questa pagina, cliccando su questo pulsante blu e compilando con i tuoi dati potrai iscriverti per poi partecipare gratuitamente giovedì 17 marzo alle ore 21. Cosa imparerai durante l'evento Il Burattinaio con le mani d'oro? 1. Come strategie di trading basate su regole meccaniche e statisticamente vincenti rimuovono la necessità di indovinare, prevedere o leggere i mercati. 2. Come le regole meccaniche e statisticamente vincenti funzionano ma soprattutto come applicarle a una strategia di trading semplice e profittevole attraverso un semplice processo passo passo. Come poterli utilizzare per estrarre dai mercati minimo 100 euro al giorno, a prescindere dal tuo livello di partenza e di conoscenza dell'argomento, in modo semplice e dedicandoci meno di 30 minuti al giorno, comodamente da casa o da qualsiasi luogo del mondo ti trovi. Quindi clicca sul link qui sotto, ti troverai su questa pagina, clicca sul pulsante blu, compila con i tuoi dati e ti aspetto giovedì 17 marzo alle ore 21 all'evento nazionale gratuito, 100% gratuito, il burattinaio con le mani d'oro.